Credo che è difficile fare un europeo nel quale tutto proprio deve filare liscio, anzi il fatto di aver incontrato qualche difficoltà per merito anche dell'avversario, oltre qualche errore forse nostro in più, è una cosa importante. Quindi loro hanno veramente spinto molto con l'inservizio e con la battuta e hanno battuto forte, siamo andati un pochino in difficoltà lì, però poi siamo riusciti, il secondo set è stato importante perché pur stando sotto, soffrendo, attaccati punto a punto anche due punti sotto, poi alla fine siamo riusciti a trovare la strada, grazie anche a Rinaldi che sicuramente ha dato un buonissimo contributo, a trovare la squadra, la strada per vincere il set. Spero che facciano tifo per noi, per carità saranno affezionati anche, ed è giusto, a Vata e a Marco che sono bravissimi ragazzi, è difficile non volerli bene, però dai domani tifiamo Italia che è meglio, sarebbe meglio. Domani sarà una partita molto intensa, sicuramente difficile, sì hanno cambiato, hanno messo i giocatori che però già giocano in WNL, hanno già provato diverse situazioni, rimane sempre una squadra pericolosa perché tecnicamente è valida.